Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Cominciamo con un disclaimer Se vi state per innamorare della mia nuova voce sexy, due o tre toni più bassa del solito State tranquilli perché la cosa è assolutamente passeggera Scherzi a parte, i primi caldi portano i primi condizionatori accesi E i primi condizionatori accesi portano i primi mal di gola Nel mio caso addirittura qualche bronchite Per cui non ci fermiamo neanche con la voce bassa Neanche in assenza di voce Perché quello che conta sono le idee Le idee trasmesse alle persone Le idee che possono aiutarci a rendere migliore il nostro business e la nostra vita quotidiana Attraverso un utilizzo consapevole del digitale E' per questo che oggi voglio parlarvi di un tema collegato a un fatto concreto molto piccolo, molto semplice Che però apre una riflessione sull'importanza o meno di arrivare primi Questo fatto dell'arrivare primi nel mercato A essere i primi nel proprio settore E' un tema molto caldo Vedo che molte persone stentano a condividere dettagli sui loro progetti, le loro idee Perché temono che qualcuno gli rubi l'idea e che qualcuno arrivi prima di loro O dall'altra parte ci sono molti che non si lanciano in determinati campi di business Perché vedono che sono già presenti dei giganti prima di loro E per cui dicono ma che mi metto io ora a fare questa cosa Loro sì che sono arrivati per primi Ma oggi non ha più senso Vedremo insieme perché non è così Ma prima voglio ricordarvi che strategiadigitale.info E' il luogo dove ci si ritrova online Tra noi che amiamo questo podcast Abbiamo la possibilità di scambiarci dei messaggi Di ascoltare le puntate del passato Di consigliare il podcast ai nostri amici E questo è il nostro punto di riferimento Strategiadigitale.info Ma ora vando alle ciance Perché è arrivato finalmente il momento di scoprire Perché non è importante arrivare primi Qualche giorno fa è arrivata una lettera qui da me Una lettera indirizzata al sottoscritto Con all'interno una scheda SIM Ebbene sì, una SIM telefonica Questa SIM telefonica non portava il nome Sopra della 3, della Vodafone, della team Ma il nome di un nuovo operatore telefonico Nato in Francia e arrivato qui in Italia Che si chiama Iliad Ve ne ho parlato attraverso il canale di strategia digitale Su Telegram, telegram.me Slash strategia digitale Perché il giorno stesso del lancio Ho voluto provare questa offerta telefonica Ma soprattutto provare l'esperienza di relazione Con questa società Prima voglio darvi un attimino qualche dato O qualche informazione in più Per andare al di là del brand Perché in fondo ci sono questi brand Grandi brand Ma dietro ci sono le persone Allora chi c'è dietro Iliad Dietro Iliad c'è un business angel Imprenditore francese Billionario, miliardario Di nome Xavier Niel E Xavier Niel ha una storia molto interessante Perché prima di essere miliardario È stato un nerd Da piccolino ha ricevuto il primo computer Si è messo a smanettare E a mano a mano nella sua vita Ha sempre voluto utilizzare Il mondo digitale A supporto delle proprie idee di business Ora non vi faccio il pedigree Blasonato di Xavier Niel Ha fatto una marea di cose Ha guadagnato soldi In tante imprese diverse Quello che secondo me è importante Sono alcune cose in particolare che ha fatto Una per esempio è stata attraverso il suo gruppo Comprare Le Monde Una fetta del giornale del quotidiano Le Monde Che mostra come una persona che viene dal mondo Delle telecomunicazioni digitali Ha comunque un'attenzione per i mezzi stampa Per l'importanza di essere un media Un'altra cosa che ha fatto Oltre al fondo di Venture Capital Che ha fondato insieme a un suo amico Chima Venture che penso sia il fondo di Venture Capital Più attivo al mondo A non so quante migliaia di start up Ha finanziato Ha creato un progetto educativo molto interessante Si chiama 42 Ed è una scuola senza professori Una scuola aperta 24 ore su 24 Dedicata a chi ha a che fare con il digital Programmatori Chiunque voglia imparare a utilizzare le tecnologie digitali Che non dormono mai E in questa scuola completamente gratuita Sono a disposizione tanti mezzi diversi Perché è focalizzata sull'apprendimento peer to peer Cioè sullo scambio di informazioni tra le persone Per cui io ti insegno una cosa Tu me ne insegni un'altra Ci trasmettiamo le idee Queste idee crescono E le nostre capacità Ci danno la possibilità di sviluppare i nostri progetti Magari qua potrebbe anche arrivare il milanesi imbruttito Ehi Gaudiano Ma cos'è che ci guadagna sto Savieniel Nella scuola gratuita Senza professori Ecco Quello che ci guadagna In realtà Non è La proprietà dei brevetti O delle invenzioni sviluppate nella scuola Ma infatti i brevetti rimangono tutti di titolarità E così le invenzioni di titolarità dei ragazzi Che sviluppano all'interno di questa scuola Quello che ci guadagna è una crescita di tutto il settore Perché quando tu metti le persone Dimenticando cose che potrebbero metterle in conflitto Dimenticando il mercato per cui tu sei un mio competitor Quando metti delle persone di valore insieme E le lasci lavorare insieme Si crea l'innovazione Si creano cose veramente nuove Oltretutto Piccola curiosità 42 viene da Chi di voi ha letto la guida galattica per autostoppisti La conosce bene 42 è un riferimento alla cultura digitale Perché è preso appunto da questo testo E rappresenta il segreto di tutto l'universo Che un grandissimo calcolatore ha impiegato 7 miliardi e mezzo di anni per calcolare questa risposta La domanda qual è l'essenza di tutto l'universo E il numero 42 Naturalmente è un gioco Ma fa capire come dietro questa scuola Ci sia realmente la cultura digitale Bene Che cosa fa Savieniel? Ha fatto 5 cose Da secondo arrivato Nel mercato della telefonia mobile italiano Anzi non secondo Da ultimo arrivato 5 cose dalle quali possiamo imparare Possiamo imparare Tra degli insegnamenti per il nostro business Qual è il fatto? Questo nuovo operatore Per chi non lo conosce Iliad Ti dà la possibilità Da qualche giorno Di acquistare una sim Questa sim Che può essere messa dentro il tuo telefono Dentro il tuo tablet Nella saponetta Per far connettere il computer Può essere messa dovunque C'è una sola offerta unica 5 euro e 99 Per avere traffico illimitato SMS illimitati E 30 giga al mese di internet Questi soldi ti vengono presi Dall'importo caricato sulla scheda Quindi come una ricaricabile Oppure dalla carta di credito Collegata alla scheda E in qualsiasi momento Vuoi chiudere Questo rapporto con l'operatore Puoi farlo Cancelli il tuo account Così come faresti con Un social network Con un account Di un qualsiasi servizio web Una sola offerta Un solo piano telefonico Molto molto competitivo Che offre cose Che gli altri operatori Non stanno offrendo O meglio Le offre A un prezzo Al quale gli altri operatori Non sono mai arrivati Un'offerta dedicata Ai primi Al primo milione Di utenti italiani Che passeranno Ad Iliad E allora direte voi Che c'è di speciale Un operatore Che è arrivato Con una strategia commerciale Piuttosto Aggressiva Vendendo un abbonamento Low cost No Ci sono delle informazioni Importanti da portare a casa Cos'è che Iliad Non avrebbe potuto fare Se fosse arrivato per primo Prima di tutto Non avrebbe potuto Essere padrone Della sua infrastruttura Infatti Iliad Non è un operatore Telefonico virtuale Cioè non è un brand Che si appoggia Alle antenne Di 3 Di Vodafone Di Team Ma è un operatore Proprietario Delle antenne Ma dove le ha prese Queste antenne Direte voi Sono state Queste antenne Dismesse Vendute Nella fusione Tra 3 E Wind Quando si sono fuse Queste due società Avevano Più antenne Di quelle che gli erano necessarie Per coprire il territorio E allora Hanno Con il benestate Della commissione europea Dismesso Queste antenne Quindi Dismesso L'infrastruttura Se fosse arrivato primo Iliad Avrebbe dovuto Faticare molto Io mi ricordo Ragazzi Chi tra di voi Ha ricordi precedenti Non solo agli smartphone Ma ai telefoni cellulari Vi ricordate all'inizio Quando tu Non compravi il telefono Cellulare Perché da dove stavi tu Non prendeva Non c'era la copertura E aspettavi Che arrivasse la copertura Nella tua zona Per acquistare il telefono Io mi ricordo Per esempio Nella casa di Roma Prendeva Nella casa del mare Non prendeva Per nulla Non c'era proprio La copertura Fin quando Non sono venuti Hanno messo Un antennone Proprio davanti A casa mia E allora abbiamo detto Era meglio prima Quando non prendeva Ecco Chi si ricorda Questo tempo Sa bene Come la crescita Di tutto il settore Della telefonia Di tutto Il settore commerciale Che ha a che fare Con l'infrastruttura Telefonica Ha faticato tantissimo Ha richiesto Tantissimi investimenti Bisognava tutto crearlo Il mercato Iliad Arrivando l'ultimo Si è trovato Un mercato Già creato E ha potuto Creare una strategia Di setup Dell'infrastruttura E di penetrazione Sul mercato Ricalcata E Diciamo In contrasto Con quello che hanno fatto Gli altri Prima di lei Quindi Mettono le antenne Bene Io mi compro A un prezzo Inferiore Le antenne Già messe Già funzionanti Solo Quelle che mi servono A me Per avere una mappatura Che mi consenta Di coprire il territorio La seconda cosa È la strategia Di offerta Diciamo Anche il product design Potremmo dire Cioè Qualsiasi operatore Vai a visitare Ti dà Mille offerte diverse Allora c'è La ricaricabile O l'abbonamento E poi Nella ricaricabile Con l'abbonamento O nell'abbonamento C'è la possibilità Di prendere Il telefono Però Prendi il telefono Quindi Ti regaliamo Il telefono Se fai l'abbonamento Però te lo regaliamo Anche con la ricaricabile Però con un vincolo Di 36 mesi E però Puoi aggiungere L'opzione Che ti dà La possibilità Di ricaricare I minuti La quale opzione Ti viene scaricata Quella per i minuti Una volta a settimana Quella per Internet Una volta al mese Ecco Vediamo che c'è Una giungla Di prodotti Cioè non si capisce bene Quale prodotto Bisogna comprare Se non Uscendo dal nostro Operatore telefonico Dopo aver fatto Il nostro contratto Due minuti dopo Esce fuori Una nuova offerta Per cui ci sentiamo Fregati Quello che ha fatto Iliad È focalizzarsi Su una sola Offerta Non ci sono Piani Taifari Non ci sono Servizi aggiuntivi Non ci sono Abbonamenti Ti diamo Il telefonino Ti diamo Lo smartphone Di ultima generazione O di penultima generazione Dai un'integrazione Per l'acquisto No Non c'è nulla Cioè semplicemente Ti prendi La scheda È così Per tutti Uguale Sta investendo Su un solo E unico Prodotto Questa cosa Che è molto intelligente Da fare Quando devi lanciare Un nuovo prodotto Sul mercato È ancora più intelligente Da fare Quando la molteplicità Di prodotti La ricchezza Dell'offerte È uscita fuori Dall'estro Degli uffici marketing Dai commerciali Degli operatori telefonici Con il loro master Preso all'università Per far vedere Quanto sono fighe Creano prodotti Che si vendono da soli Ha generato Nel mercato Nelle persone Che vanno ad acquistare I prodotti Una grande confusione Mia moglie Per esempio Non riesce proprio A entrare Dentro la dinamica Del Ti ricarichiamo I minuti Scalando il traffico Ma se non c'è il traffico Non ti possiamo Rimettere le soglie E allora Prendiamo i soldi Dal tuo Traffico Che non è abbastanza Prendiamo i soldi Dal shock Che hai ricaricato Che non è abbastanza Per ricaricare le soglie Non ci riesce a entrare Perché? Perché Questa cosa È una cosa inventata A tavolino Da qualcuno Che la carta Vince La carta Perde In sostanza Te lo vuole mettere In quel posto Cioè vuole ottenere Che tu perda il controllo Di quello Che stai spendendo E spenda più soldi E faccia loro Fatturare di più Oltretutto Stanno facendo Un po' Come dire Gli allegrotti Ecco Per essere Per usare Un neofemismo Tutti gli operatori Telefonici Perché la telefonia È di per sé È un mercato Con un altissimo CLV Un altissimo Customer lifetime value Che cosa voglio dire Che come hanno capito Che io il telefono Te lo posso pure regalare Perché intanto Tu nel tempo Poco per volta Settimana dopo settimana Ricarica della tua soglia Dopo ricarica Della tua soglia Telefonata dopo telefonata Porterai alla mia azienda Un sacco di soldi Quindi non è importante Inizialmente Quello che mi dai Ma è importante Che nel tempo Tu resti con me Bene Questa cosa Questa molteplicità Di offerte È vissuta male Iliad Che cosa fa Fa una sola E unica Offerta Molto smart Un terzo punto Sono i negozi Avete visto I punti vendita Nei centri commerciali In giro per la città Il negozio Vodafone Il negozio 3 Il negozio team Tu entri Ci sono i videofonini Esposti I telefonini Il kit Per collegarsi a casa E poi Tutti questi foglietti Delle offerte Che circolano Per il negozio Bene Con Iliad Tutto questo Si è annullato Hanno fatto Un'operazione Molto simile A quella che ha fatto Snapchat Quando ha lanciato I suoi occhiali Il suo device fisico Gli spectacles Non ha Inizialmente Aperto dei negozi Ha Disseminato O meglio Ha portato in giro Per gli Stati Uniti Un bot Un distributore Automatico Del prodotto Per cui Te lo comunicavano Di giorno in giorno Dove era Le persone andavano lì E mettevano Alla carta di credito E usciva fuori Dal distributore automatico Un paio Di spectacles Non in maniera Così Capace Di scatenare Viralità Ma Iliad Ha fatto La stessa cosa Se vuoi comprare Una scheda Iliad Le strade Sono due O vai In un posto fisico Che sarebbe Un distributore Automatico Di sim Davanti alle quali Si sono formate Delle file Almeno qui a Roma Nel centro commerciale Di zona Mi hanno detto Che c'è una fila Lunghissima Davanti a questo distributore Automatico Oppure L'alternativa È fare tutto online Come ho fatto io Sono andato sul sito Ho acquistato In pochi passi La mia sim E mi è arrivata Direttamente Per posta Quindi Costruire Solo quello Che è necessario In fondo Che cosa mi serve Io ti devo convincere Devo avere lì Un esperto venditore Che ti convince A comprare La mia offerta telefonica O devo creare Un'offerta Che spacchi Che faccia Venire alle persone Il desiderio Di avere Quel prodotto E poi darti La possibilità Di averlo Come Compreresti le patatine Al distributore automatico Inserisci la scheda E tiri fuori la sim La seconda Sicuramente È molto più smart Molto più smart Dal punto di vista Dei costi Perché non devi Comprare Dei negozi O affittarli Non ci devi mettere Dentro delle persone In fondo Quelli sono punti Di distribuzione O possiamo fare tutto Come lo ha fatto Zio Jeff Bezos Con Amazon Fino a qua Cioè Nel Semplicemente Farlo ordinare Online E inviarlo A casa Via posta Un quarto punto Interessante È La politica Sui servizi aggiuntivi Ne abbiamo parlato Anche in passato Servizi Aggiuntivi Che si Abilitano Da soli Che ti Scalano via Dei soldi Dalla Tua Scheda Telefonica O Servizi aggiuntivi Che vengono Fatti pagare A parte Per cui Sempre hai L'incertezza Ma questi soldi Come ho finito Avevo ricaricato 50 euro ieri Come ho fatto A finirli Ecco Davanti a questo Tipo di Incertezza Vissuta Come un problema Da L'utenza Iliad Dichiara Apertamente Niente Sorprese Niente Margine Sui servizi Tutto È incluso Non c'è Altro E tutto È controllabile Attraverso L'interfaccia Online Semplicissima Che non richiede Registrazioni Cose particolari Connessioni Con scheda Telefonica Ti registri Come Ti registreresti Su un servizio Online E gestisci Tutte le opzioni Con uno switch Acceso Spento Dalla Secretaria Telefonica Al trasferimento Di chiamata Hai La possibilità Di fare Chiamate A numeri A pagamento Questa Possibilità È interessante Perché Arrivare ultimi Arrivare secondi Non arrivare primi Ci dà la possibilità Di imparare Dagli errori Di chi è arrivato prima Cioè quando io arrivo Sul mercato È vero Ci sono altri Che sono già arrivati Che hanno già Una grossa fetta Di mercato Ma tu puoi chiederti Cos'è che stanno sbagliando Cos'è che io odio Del loro servizio Cos'è che le persone Detestano Cos'è che non piace E molto semplicemente È ridisegnare La value proposition Del tuo prodotto Servizio E le sue caratteristiche Disegnarle In contrasto In negativo Rispetto Alle cose brutte Che sono state fatte Da quelli che sono Arrivati prima di te E ultimo Il marketing Il tema del marketing È molto importante Io faccio sempre Come esempio Quando parlo Dell'importanza Di un marketing Allineato Con tutte Tutti i diversi livelli Dell'azienda Faccio sempre L'esempio Degli operatori telefonici Cioè gli dico È inutile Che mi fai lo spot Televisivo Martellante Tutti i giorni Con la gente Allegra In costume Che balla Sulla spiaggia E tutto figo Tutto figo Poi la prima volta Che mi capita Un problema Con L'abbonamento Telefonico Provo a chiamare C'è uno che mi tratta Pesci in faccia Il tuo marketing Non vale assolutamente Niente Perché c'è un totale Disallineamento Tra quello che L'immagine Che vuoi trasmettere Di te E l'esperienza Che poi faccio Nel tuo concreto Su questo Interessante La strategia Di Iliad Perché è una strategia Fondamentalmente Basata Sul passaparola Cioè La semplicità Del prodotto La Chiara Value proposition Esplicitata Da Dall'operatore Noi Non abbiamo Costi nascosti Abbiamo un prezzo Unico Per sempre C'è scritto Per sempre Sul sito Fa sì Che si generi E anche Il fatto Che sia venduto In questa forma Particolare Non sia pagabile In contanti Non sia A disposizione Una rete Di negozi Ma Sia un distributore Automatico O la possibilità Di acquistarlo Online Fa sì Che ci sia Un passaparola Il miglior marketing Che esiste Per cui Dopo aver acquistato La mia scheda Sono andato A cena Dallo zio di mia moglie E ho scoperto Che lui Che è sempre Uno attento Socio Di altro consumo Attento Ai particolari Alle truffe Alla pubblicità Ingannevole Ai diritti Del consumatore Che cosa ha fatto Ha comprato Dieci schede Iliad Per tutta la famiglia E li sta distribuendo Amici e parenti Allora Questo effetto qua L'effetto Perla nel campo Cioè Se tu sai che In un campo Ci sta nascosto Un diamante Sotto l'albero Ma non ti sbrigherai A comprare Quel campo Un po' A qualsiasi prezzo E a buttare giù L'albero E a scavare Per trovare Il tuo diamante Se ne sei certo E allora Noi non dobbiamo Creare Dei meccanismi Di marketing Che fanno Il lavaggio Della testa Alla povera gente Che li ossessionano Che li martellano Che stanno lì Fin quando Questa brand Awareness Perseguita Con le unghie E con i denti Ti porta finalmente Il povero Cliente ignaro Potenziale cliente Nel punto vendita Dove ci sta Un venditore Che lo rincoglionisce Con altre mille Offerte Contro offerte Lo fa uscire Di lì Con le idee Più confuse Di prima Dobbiamo puntare Sul creare Dei servizi Wow Dei prodotti Wow Delle cose Che si capiscano Molto semplici Che possano Essere comprese Che trasmettano Una sensazione Di sicurezza E di opportunità Perché solo Se riuscirò A creare Questa sensazione Di opportunità Dietro ai miei prodotti O servizi Potrò Avere il miglior A mia disposizione Il miglior tipo di marketing Che in fondo È il passaparola Siamo arrivati alla fine Di questo episodio Bene ragazzi Mi stavo per partire Qualche colpo di dolce Ma siamo riusciti Ad arginare Chissà se nei prossimi giorni La voce mi ritornerà Nel frattempo Voglio ringraziare Coloro Che sono produttori Di strategia digitale Produttori Direte Ma chi sono sti produttori Ragazzi Molto semplice Questo podcast È un esperimento Collettivo È per coloro Che vogliono Diffondere E far propria La consapevolezza Nell'utilizzo del digitale Quando il digitale Va utilizzato Ed è un'incredibile opportunità E allora ragazzi Sbrighiamoci a capire Come vanno le cose Come possiamo utilizzare Il digital Per il nostro business Per fare marketing O quando il digitale Non va utilizzato E quindi tirar fuori L'elemento umano Tirar fuori le relazioni Tra le persone O quando possiamo Integrare Un uso sano E bilanciato Per avere il meglio Del digitale E il meglio dell'umano Questo progetto È perseguito Da tanti produttori Sono 122 I produttori Al momento E voglio ringraziare In particolare Gli ultimi produttori Maida Rojas Alfredo Guerra Leonardo Vanicelli Fabio Di Maggio Enrico Girotti Laura Colli Federica Crocetti Enrico Rossomando Irene Villasanta Beatrice Biasuzzi Alexander Dobrotov Giancarlo Spanu Danilo Sipala Simone Capomolla Roberto Pagliarini Andrea Ciraulo Denise Calzolari Sara Vettri Flavio Figorilli Roberto Andreoni Giovanni Di Leo Stefano Lagravinese Croce Di Michele Loris Di Francesco Antonio Pesacane Filippo Lorenzo Bardi Federica Delle Piane Davide Zerbini Cristian Manganelli Vittorio Neri Andrea Della Via E poi Sara Bortolozzo Perché Sara Bortolozzo In particolare Perché proprio Qualche giorno fa È stata L'ultima finanziatrice Con lei che Ha fatto scattare Il numerino 122 E me l'aveva Preannunciata Era da tempo Che lo voleva diventare E finalmente Ce l'ha fatta Quindi Sara Benvenuta a bordo Grazie per essere Finanziatrice Di Strategia Digitale E devi sapere Che c'è qualcosa Di speciale Nell'essere la numero 122 Perché ho deciso Di fare un esperimento Insieme ai primi 300 finanziatori Per ora La lancio lì Presto vi darò Altri particolari Aspettiamo Di approssimarci Ancora di più Al 300 Ma voglio premiare Questi spartani Che hanno creduto Nel progetto Sin dall'inizio Se vuoi diventare Finanziatore Vai su StrategiaDigitale.info Io ringrazio Odra Bertolone La coautrice del podcast Il nostro fonico Costanza Mineo E Radiospeaker.it Per il sound design Ragazzi Grazie mille E alla prossima Strategia Digitale Idee Novità E consigli Per imprenditori E professionisti E appassionati Di web marketing E business online E business online A cura Di Giulio Gaudiano